Al venticinquesimo i biancorossi di casa raddoppiano. Punizione di Gabbianelli respinta dalla difesa. Ferrara si coordina e di prima inventa un tiro imparabile per Mora. 2-0. Sugli sviluppi del conseguente corner, il Rimini trova il raddoppio. Il cross di Piscitella trova l'opposizione di Meregalli. Deratti inventa un sinistro al volo dal limite dell'area che si infila sotto la traversa. E un euro goal, quello che porta i ragazzi di Gaburro sul 2-0.